Ciao a tutti e bentornati nella Maison L'Oréal Paris. Oggi alla velocità ci penso io perché vi farò vedere come realizzare questo make-up super autunnale perfetto per le vostre serate. Come primo passaggio vado a realizzare una linea all'attaccatura delle ciglia con la matita nera alle smokey e lo vado a sfumare con l'ausilio di un apposito pennellino. Dalla palette Maximalist vado a prendere il color bordeaux per i punti più scuri del trucco, quindi all'attaccatura delle ciglia e nella piega dell'occhio. Dalla palette Nudis vado a prendere il colore per fare il punto luce al di sotto del sopracciglio, ovvero l'avorio. E dalla stessa palette vado a prendere anche l'oro per creare il punto più chiaro al centro della palpebra. Per dare ancora un po' un tocco di intensità al trucco vado a realizzare una linea dallo spessore medio con eyeliner ultra precision. Vado ad applicare il mascara Unlimited su tutte le ciglia, sia superiori che inferiori. Vado a ridefinire il mio arco sopraccigliare con l'Eye Contour Brow Artist nella colorazione Cool Blonde e vado a spazzolarle con un apposito scovolino. Momento per il blush, vado a utilizzare l'Eye Fissa Peach per dare un po' di colorito alle guance. Infine completiamo il look con il rossetto L'Eye Chocolat nella colorazione Cacao Crush. Potete anche decidere di optare per un rossetto un pochino più leggero o addirittura per un gloss. Molto bene, siamo arrivati anche oggi al termine del nostro make-up tutorial. Io spero che questo trucco autunnale vi piaccia. Se è così lasciate un pollicino in su e mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale L'Oreal Paris perché noi ci vediamo mercoledì con il prossimo caffè assieme. Mi raccomando lasciate anche un commentino qua sotto con le idee per i prossimi video. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo mercoledì. Ciao a tutti! Ciao a tutti!